La Camera di Commercio Chiedi Pescara crede sempre più nell'eco-mobilità, l'eco-sostenibilità, terza edizione di Ecomob, Camera di Commercio al fianco di questa iniziativa? Assolutamente sì, il terzo anno pensiamo che ormai la sfida sia stata vinta, che con la prima edizione del 2018 era in realtà una scommessa su questo mondo, sull'eco-sostenibilità, sulla mobilità sostenibile sia in città sia in periferia e nel 2020 dopo la crisi Covid registriamo ulteriori aumenti del numero degli espositori, altre attività che si aggiungono all'edizione 2019, quindi sicuramente sarà un ottimo expo anche quest'anno. Sembrava una scommessa anche perché erano gli inizi di una mobilità sostenibile, del cicloturismo, ancora di più del turismo di prossimità e esperenziale, invece è stata una scelta giusta, i tempi giusti e questa edizione che si conferma un grande successo nonostante tutto, lo è la dimostrazione, insomma, che era delle tematiche veramente attuali. Cosa vedremo in questi tre giorni di Ecomobile Marina di Pescara? Allora, quest'anno c'è una partecipazione più massiccia nel reparto automotive, tantissimi brand con auto elettriche anche in anteprima, con la possibilità, e questa è una nostra caratteristica, con la possibilità di effettuare dei test drive gratuiti di queste auto, perché molti non sanno che poi provare un'auto elettrica è anch'essa un'esperienza, perché è veramente bello. Poi, ovviamente, ha tanti scooter elettrici, tanti monopattini, ovviamente le e-bike, ripeto, la nostra caratteristica è proprio questa, che tutto può essere provato e testato. Noi, come CNA Turismo, stiamo lavorando molto sul turismo esperenziale all'interno di questa nostra regione, tante verdi all'interno di Ecomob abbiamo proposto questa iniziativa insieme alla Camera di Commercio Chiedi Pescara, che si chiama Active Abruzzo, tra vocazione e destinazione, dove 12 tour operator nazionali e stranieri incontreranno oltre 100 operatori abruzzesi sulla vacanza attiva, cicloturismo, torrentismo, canoa, trekking e quant'altro, esperienze che si possono fare nelle varie attività economiche all'interno di questa nostra regione. Noi riteniamo che questo è il futuro, perché la tendenza sempre di più è sulla sostenibilità e turisti che vogliono fare esperienza all'interno di un territorio per conoscerlo nella propria profondità. Quindi ci sarà questo B2B che metterà il prodotto Abruzzo in evidenza rispetto a questi 12 tour operator che saranno nazionali e canadesi, americani, inglesi, greci, francesi, spagnoli e olandesi.